Ciao bambini, buongiorno! Allora, possiamo fare l'ultima parte dell'orologio. Vi ricordate dove eravamo rimasti? Eccoci qua al nostro orologione. Allora, tutti i minuti che si trovano in questa parte qui, cioè quando la lancetta più grande si trova in questa parte qui, noi dobbiamo usare PAST, cioè, per esempio, half PAST, se si trova a metà, cioè sul sei, ovvero sul trenta minuti. Oppure, se si trova sul tre, a quarter PAST, un quarto passato. Oppure, cinque minuti, five PAST, l'ora. Qui, ten PAST, oppure twenty PAST o twenty-five PAST. E qui sempre, no? Il riferimento all'ora, alla lancetta dei minuti. Quando, invece, la lancetta dei minuti si trova da quest'altra parte, la situazione cambia, ovvero, non si scrive più PAST, ma si scrive... TO, ok? Allora, mettiamo che io abbia la lancetta dei minuti che va qui. Allora, se ho la lancetta dei minuti che va qui, io devo vedere a questo punto quanti minuti mancano. Allora, mettiamo l'ora, facciamo così. Io la metto qui, sull'una, no? Però, io non vado a scrivere l'una come ora. A questo punto cambia. Allora, il mio orologio, questo qui sarà... ITS. Quanti minuti mancano? Andiamo a vedere. Cinque, dieci, quindici, venti, venticinque. Quindi, è... Twenty-five, two, venticinque minuti a... Qui è l'una, quindi noi dobbiamo mettere l'ora successiva. ITS. Twenty-five, two... Two. L'ora successiva. Ok? Proviamone un'altra. Cancelliamo questa. Cancelliamo anche l'ora. Allora, mettiamo che è sul cinque, quella dell'ora. Quella del minuti è qui. Allora, se io vado a vedere quanti minuti mancano, eh? Cinque, dieci, quindici minuti. Attenzione, però, eh? Perché come quando questo era un quarto, anche questo è un quarto. Quindi, qui noi scriveremo... It's a quarter, two... È sul cinque. No, non sono le cinque che dobbiamo scrivere, perché ti sta dicendo manca un quarto alle l'ora successiva. Two, six. Ok? Proviamo a farne un'altra. Allora, mettiamo che l'ora è sul sette e i minuti è sull'undici. Allora, quanti minuti mancano all'ora successiva? Qui, cinque. Allora, si scrive... It's five... Ora stavo scrivendo in lettere. Vabbè, it's five... Two... Allora, qui è sul sette. Non sono cinque minuti alle sette, ma cinque minuti all'ora successiva. It's five to eight. Ok? Ovviamente, ricordiamoci di scrivere am, pm, a seconda, sei, la mattina o pomeriggio. Ok, questa è la spiegazione. Spero che, nonostante sia difficile, la capiate. Comunque, io vi scriverò degli orologi con tutte, tutti i minuti per farvele vedere. Ok? Così, all'ora.